Il superiore generale dell'ordine, padre Paolo Guarise, prego padre si accomodi qui, posso salire, e attribuiamo a lui, a nome dell'intero corpo accademico, il premio umanizzazione della medicina, tenendo conto che San Camillo dell'Epis per 30 anni è vissuto in questo ospedale del Santo Spirito, qui ha formato il suo spirito di carità e qui ha dato anche da un punto di vista professionale tutto quanto il meglio di sé, noi abbiamo padre nel nostro museo una pezzuola invenuta del sangue del pus, della piaga di San Camillo dell'Epis, della gamba di San Camillo dell'Epis e in nome di questo Cimedio che noi conserviamo con molta cura e con molta attenzione nel nostro museo e con noi attribuiamo, dal nome di San Camillo dell'Epis, ai padri dei ministri degli infermi di San Camillo, attribuiamo questo premio umanizzazione della medicina.